Eccoci per l'ultimo video della giornata con Rachele, le energie chiaramente sono quel che sono ragazzi, darò il meglio di me, provo. Allora Rachele, oggi il tema è veramente molto ampio, qua stiamo spaziando veramente ovunque perché i topi che ormai finiscono, abbiamo caricato 1700, 800, 900 video ormai, per cui potete documentarvi e perdere tutta la vostra vita sul canale YouTube. Allora, tornare insieme a distanza di anni, ok? Quindi siamo nel caso in cui c'è una relazione, questa si interrompe per n motivi, per volontà di lui o per volontà di lei e successivamente si prova a tornare insieme, ok? Quindi tu vedi possibile la cosa, se sì in quali circostanze, in quali condizioni, se no perché? Allora, dipende. Ovviamente ogni situazione è diversa dall'altra, però generalmente se vi è una relazione, dopo ci si lascia e dopo anche un anno, non lo so, un tot di tempo ci si vuole rimettere insieme, si deve essere anche consapevoli che la persona che noi stiamo andando, magari ci troviamo in un momento in cui abbiamo bisogno di sentire quelle emozioni che abbiamo sentito quando ci troviamo in tranquillità, bene con quell'altra persona, quindi abbiamo voglia di ritornare in quella situazione. Secondo me non è possibile ritornare in quella situazione, come già ti accennavo prima, cioè è possibile ritornare insieme a un'altra persona, però bisogna essere consapevoli che si cambia, si evolve durante l'arco della nostra vita. Io stessa sono cambiata rispetto a come ero prima, quindi se immaginassi di dover tornare con il mio ex ragazzo, so che non sarò la stessa persona, quindi non sarà la stessa e che sarebbe una cosa diversa, anche bella, ma diversa. E' caso in cui secondo me non è possibile, perché se ad esempio due persone stanno insieme da dieci anni, poi si lasciano, può succedere che un'altra persona cambia relazione, si rimette con un'altra e dopo due mesi si sposano, dopo dieci anni no, dopo due mesi sì, perché non è il tempo che conta, ma la qualità, cioè quando senti che la persona giusta è la persona giusta, quindi sì, è possibile, ma ovviamente se dopo un mese che vi siete lasciati non cambia, sì, è più facile, dopo tanti anni. Però sai, in tanti anni le persone cambiano, come hai detto te, no, si evolvono, e quindi conseguenza può essere che le mancanze che in qualche modo c'erano prima, magari sono state colmate dalla maturità che è venuta a sorgere. Sì, sono d'accordissimo, io mi sta venendo in mente una frase di una serie tv di Netflix, Bojack Horseman, una delle mie preferite, dove fa vedere che questi due si erano lasciati e passa il tempo, loro si sono fatti altre vite, si risentono a telefono e li dice, parlano, si trovano bene, dice però se io fossi stata in quella relazione come sono adesso non ci saremmo lasciati perché appunto va già colmato, ovviamente le relazioni poi ti portano a migliorare, cioè quando ti lasci tu impari degli errori che hai fatto, maturi, e lui ha detto sì, però se non ci fossimo lasciati, non avessimo fatto quell'esperienza, tu non saresti la persona che sei adesso. E questa è una frase che mi ha fatto molto riflettere, perché è vero, bisogna passare per evolversi, quindi io penso che bisogna andare avanti, io credo più in questo, è raro che si possa, secondo me, tornare insieme a distanza di anni e pensare che sia tutto come era prima, no, è proprio una cosa a cui mi rifiuto di credere, è possibile, ma dovete pensare che è un'altra persona quella, bisogna cominciare tutto da capo. Io ho avuto un mio amico che era finanzato con una ragazza, dopo tanti anni si sono lasciati e il fatto che si fossero lasciati ha fatto percepire che in realtà, provando a conoscere poi altre persone, sia l'uno, cioè sia lui, sia lei, non c'era lo stesso feeling che avevano tra di loro, e quindi ho detto no, conviene che torno indietro perché era meglio prima. Esatto, ma è così, quindi io credo fortemente in questo. E quindi l'esperienza appunto di lasciarsi ha fatto capire che in realtà era quella la relazione di qualità e non erano le altre, e quindi sì, è stata proprio l'evoluzione della vita che li ha portati a tornare assieme e adesso si sono sposati. Sì, no, ma io ne ho sentiti anche di storie del genere, infatti è possibile, tutto è possibile nella vita, solo che a livello statistico io credo sia più raro, però secondo me è possibile. Tu sei una che riesci a mettere una pietra sopra quando una storia finisce, cioè abbastanza... Sicuramente sì, per me, io non torno indietro, sono fatta così, no, no. Ma sai che un po' tutte le donne sono così, nel senso che quando chiudono la porta... Sì, invece gli uomini no. Avanti, dritte e via. È vero, invece gli uomini no, è così. No, gli uomini invece prima vanno avanti, dopo di che vedono che avanti non c'è nessuno, e dicono, per te che torno indietro perché... Sì, sì, questo è tipico, è proprio tipico, però no, di solito le donne no. Guarda, noi ci scrivono tantissimi ragazzi che magari dopo 5-6 mesi, un anno, voglio tornare con la mia ex, cazzo, è passato un anno, oppure si è fidanzata, oppure si è sposata, quindi non è che siano proprio situazioni facilmente gestibili. Ok, chiaramente tutto ciò viene complicato anche, secondo me, dall'evoluzione stessa della vita, ossia che, sai, quando tu magari sei a 25 anni, ok, hai una reazione e poi però la vita va avanti e tu magari sei prossimo a quelle esperienze di fidanzamento, di conoscenza, eccetera, che significano convivenza, che significano qualcosa di più, c'è chi fa figli, eccetera, eccetera, e quindi poi è anche meno probabile che si verifichi una ripresa di una reazione precedente. Esatto. Che se ci sono figli di mezzo, poi... Ha maggior ragione, quindi dipende anche dall'età, da tutto, da una serie di circostanze, dal tempismo anche, quindi è difficile. Sai, poi comunque penso che se questa cosa si potesse verificare, servono diversi anni, perché si deve in un qualche modo rompere l'immagine, la percezione che aveva lei di lui e la percezione che lui aveva di lei. Esatto. Quindi si devono ricreare delle nuove immagini. Esatto. È veramente molto difficile e improbabile che tutto ciò nasca nella vita reale. Sì, poi dipende anche da come ci si lascia, cioè se ci si lascia male è ancora più impossibile. Io mi sono lasciata male e per me è proprio impossibile, torno indietro, è proprio impossibile. Mamma mia ragazzi, quando qua si chiude, si chiude. Vabbè dai, allora so che questa intervista è un po' più breve, hai altro da aggiungere? No, sono stata chiara, concisa e ho detto tutto quello che penso. Niente ragazzi, quando le donne chiudono, chiudono e quindi non si può tornare insieme, se non in maniera veramente improbabile e unica. Qui da Cristian e Rachele per oggi abbiamo completamente finito e anche scaricato le batterie. Alla prossima.